Ciao! Tutto bene? Sì, beh... non mi sembra che ti stia bene. Sai, è normale sentirsi tristi. Ci ha permesso di provare ad esprimire tutte le nostre emozioni. Questo è... ciò che ci rende umani? E' una bellissima giornata, no? Adoro venire al parco. Mi aiuta a pensare, a respirare, a rilassarmi. E tu... tu vieni qui molto? Ecco... non ti conosco ma... pensi che tu sia una buona persona? Gentile e bella. Dentro e fuori. A proposito, io sono Mario. E tu... come ti chiami? Sono Alessandro. Non ti conosco ma... Vieni... Grazie a tutti.